Tamburi Investment Partners è quotata da dieci anni e ha da sempre avuto l'obiettivo di supportare storie di crescita di aziende italiane e non a livello internazionale. Questo tipo di palcoscenici è importante per conoscere le aziende e conoscere i potenziali investitori. Peraltro la piazza di Lugano è certamente interessante da tanti punti di vista, non solo per un fatto di prossimità ma anche per l'effervescenza che esprime. Per un investitore che si pone l'obiettivo di catalizzare l'interesse su aziende italiane che, ripeto, possano rappresentare storie di eccellenza per il futuro, riteniamo sia importante partecipare a questo tipo di iniziative che peraltro ci hanno visto partecipi in tutte le cinque edizioni, a questa credo sia la sesta, avvenute finora. Noi da sempre siamo rimasti fedeli alla strategia, agli obiettivi che ci siamo dati nel 99-2000 quando è stata fondata TIP. Il nostro obiettivo è quello di essere investitori di vero lungo termine in aziende che si pongono l'obiettivo di raggiungere posizione di leadership nel mondo attraverso percorsi di internazionalizzazione, attraverso operazioni di acquisizione, attraverso crescita sostenuta e stabile in modo equilibrato con i capitali giusti senza ricorrere eccessivamente al debito. Questo è da sempre stato l'obiettivo, anche nei momenti dove magari andava meno di moda siamo rimasti fedeli rispetto a questa iniziativa e tutto sommato oggi i risultati ci danno ragione. Nelle presentazioni che abbiamo fatto oggi raccontiamo che dalla nostra quotazione che è avvenuta nel novembre del 2005 ad oggi abbiamo sovraperformato qualunque asset class ci potesse essere come alternativa a un investimento in TIP all'ora. Per cui da l'oro all'argento a indici sintetici del private equity piuttosto che il real estate. Questo non per parlarci addosso ma perché pensiamo che un'attività di questo tipo che è orientata veramente a lungo periodo dove la priorità è investire in aziende eccellenti sia premiante nel tempo. Oggi il nostro portafoglio è fatto da società come Italy, come Amplifon, come Prismian, come Azimut Benetti che è stato l'ultimo nostro investimento annunciato a fine agosto e come tante altre insomma non possiamo dilungarci che rappresentano il vero tessuto industriale italiano. Aziende di questo tipo in Italia ce ne sono tante e l'obiettivo e l'ambizione che abbiamo per i prossimi anni è di poterne intercettare tante altre e di poter, come dire, replicare la storia degli ultimi dieci anni magari anche su livelli dimensionali più importanti. Perché siamo una proxy della bella economia italiana, delle belle aziende italiane e non solo perché in realtà abbiamo investimenti anche fuori dall'Italia. Guardando al passato abbiamo, lo dicevo prima, dato dei rendimenti certamente superiori a qualunque tipo di asset class. Certamente questa non è una garanzia per il futuro, come si dice sempre in questi casi, però in fondo siamo una società che ha una diversificazione su tipologie di industria e di settore importante su aziende che hanno una fortissima vocazione internazionale e su aziende che hanno all'interno del proprio mercato qualche elemento di distinzione. Le società che citavo prima, da Moncler a Prismian a Italy, sono uniche nel loro genere e nel mondo e conseguentemente, e ripeto, in Italia di altre aziende di questa tipologia ce ne sono, e conseguentemente questa può essere un'opportunità per chi non può avere accesso a questo genere di investimenti a farlo tramite tip.